Ieri, oggi e domani a Modica, al Centro Commerciale La Fortezza, si svolge un seminario di canto denuto da Maria Grazia Fontana, la vocal coach dei famosi amici e tale quale show sta tenendo a Modica il suo corso di formazione ed audizione aperto a tutti i fortunati aspiranti artisti che sono riusciti a prenotarsi in tempo. L'appuntamento organizzato da GS20 terminerà domani sera alle 18.30 con lo spettacolo finale, aperto a tutti che regalerà ai clienti del Centro Commerciale l'esibizione degli allievi nostrani di Maria Grazia Fontana. Domani faremo uno spettacolo finale che chiuderà questi tre giorni di seminario di formazione con i ragazzi e all'interno appunto di questo spettacolo faremo due brani che dirigerà la maestra, la coach Maria Grazia Fontana dove i ragazzi metteranno appunto in scena ciò che hanno fatto in questi due giorni. Faremo due brani in coro e poi si esibiranno due minuti e trenta ciascuno con dei brani da solisti. Maria Grazia Fontana oggi ci onora nella sua presenza presso gli studi di Canale 74. Presente a Modica un seminario che si sta svolgendo in queste ore presso la Fortezza e avrà il suo culmine domani sera alle 18.30 con uno spettacolo. Come hanno recepito i modicani e gli artisti della zona del territorio ebleo? Io penso in maniera positiva perché a parte che siete una terra fertilissima di artisti quindi ne escono continuamente e questo è un bene, è una cosa positiva, penso che sarete anche un po' orgogliosi voi, anche io un pochino perché Modica è un paese che frequento e amo da tanti anni e quindi un pochino mi sento un pezzettino piccolo anche io un po' Modicana. I ragazzi, questo gruppo nuovo è un gruppo molto nutrito, molto grosso, abbondante quindi abbiamo iniziato ieri a lavorare. Come recepiscono? Con un po' all'inizio di difficoltà perché le cose che io propongo loro non sono le cose standard, diciamo, ma propongo loro dei lavori che servono ad integrare un pochino il lavoro dell'artista a 360 gradi. Non è solo legato meramente al canto o alla voce o alla vocalità ma c'è anche un po' di altro. Ecco appunto domani sera cosa si aspetteranno, cosa devono attendere gli ospiti e gli spettatori che verranno a guardarvi, penso numerosissimi. Allora, innanzitutto non le Cirque du Soleil ovviamente ma semplicemente un lavoro fatto, una condivisione di tre giorni, un lavoro che vuole cercare di aggiungere piuttosto che togliere, migliorare un pochino la presenza scenica, lo stare sul palco, la consapevolezza delle proprie capacità.